Come si torna? Oddio, frae, è uguale! Ma faccia i dati di questo tipo di caratteristico? Ma la c'era i vecchi oi! C'è un po' il piove e il piove! In zona attuali, sono in 2-3 anni! Mi stai cercando di dire che se... ...vii dire a sinistra e ti riparai a questo momento. Dove? Vira a sinistra e tira a dentro. Sinistra, lì. Ah, ho capito, ok. Mi faccio elidolare nel frattempo. Questa è lì dal Cedar.. ...sana.... Ma quello è il carburante, non va molto bene Eh, io poi dobbiamo attesare Ah, c'è anche l'abbiamo in salta Ma è buono salta Arco felice Questo è lo stadio sopra che ho felice, sì Ah, c'è l'abbiamo in salta E' il carburante Dove sarà se la mare moda qua? Eh, io ho reso Come dietro, no? Di qua? Di qua No, no, tu le tira, vede qui Ecco qua, tira dritto adesso Eh, non più là Che Castellammare qua si fa a lega posto Eh, perché c'è un numero di due qua di qua? Ah, è quello là giù Castellammare Beh, chi va chiamare qua per la cosa? Allora guarda qui hai il gatto? Non le gatto che c'è il... Non le vado E guarda qui Si spiega, ti capisci Eh, sto con la levetta un po'... sto cercando di capire, non è proprio semplice Ma perchè l'altipire è in piedi, non è tu? L'altipire è in piedi, non è? Ma stai passando solo la foto brutta, no, solo la campo brutta Quindi che sei l'ha muerto, eh? Detto, è letteralmente dritto per un po' E' uscita una freccia, molto a casa E' comparsa una freccia E' uscita una freccia sullo schermo, mi sono E' uscita una freccia 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 E' uscita E' uscita E' uscita E' uscita una freccia 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 Beh, in qualche modo devi atterrare sull'atmosfera più densa, no? Eh, no, dico... Alla velocità di crociera si sciarga. Penso che se rallenta... Io so solo... Penso che col joystick non si possa rallentare. Tra abbassa la cloche... Non c'è. Nooo... Bisogna giocare con la telecamera interna... Ehm... Ehm... Ma perchè... Dall'interno tu non... Cioè, tu non è che vai in giro a caso. Tu sai dove devi andare. Wow, io posso aiutare una fama. Mi chiamo fatta... Già l'hai caricata? Qual è il problema? Ehm... Ok. Che c'è qua? Ecco. No? Eh... Mi direi che ha fatto qualcosa. Ehm... Siamo pronti... Ehm... Attivo i flap. Dove stanno i flap? Allora... In genere nei film fanno così. Ehm... Adesso siamo pronti. I freni di parcheggio attivi? Ok. Ok. Disattivati. Ok. 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 Ehm... 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 No no no. Eh... Voleva fatti rollassi questa. Ehm... Voleva fatti rollassi questa. No 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 no. Dobbiamo Sharegollare Capitano! AAAAAH! Ma c'è! ALEBAA! Dove sono visto? Dove sono? Approxiamo Boeing-Alpha-Sierra. 747 è type Boeing B748, due anni south-westo del Naval Per��. Request di la posizione di seguimento. Non è passato nella cloche! È mai delle sedie! Purtroppo! Che è successo? Che succede? No, ci siamo schiantati. Che è successo? Che è successo? È il comparsa un coso verde. Non raffiare senza dover fare il caricamento. Sì, home, riavvia. No, è per fare il caricamento comunque. Non ci muo. Sono sentito. Sì Sì, sono tantissime harddisc, avevo tante C'è il disco al 100% sempre Dopo lo sposto, domani io sposto il gioco su un disco un po' più veloce Tipo le SSD No, è 100GB, non... Allora... Intelligenza artificiale Che sta facendo? No! Skynet! Skynet! Che sta sprendo a coperti Sì... Sì... Passi... Sì, 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 sì! Sì, buono! Ma che fa l'intelligenza artificiale? Questa è il finale del film Flight di Dead in Washington, no? Quello che vola sotto sopra. Va bene. Allora, domani sposto il gioco su un... ...un harddisk migliore. E' certo che quando uno cade il gioco si bugga... E perché il minimo tocco a terra e la partita finisce. Solo che ha difficoltà facile... ...non succede. Allora, stoppa la registrazione. ... ... ... ... ... ... ...